Ciao a tutti e benvenuti ad Antiprima Cinema! Vediamo insieme tutte le novità di oggi! Nuovo thriller per Jim Sheridan, Dreamhouse. Il film è in fase di arruolamento per quanto riguarda il cast. Ormai è accertata la presenza di Daniel Craig. Resta da svelare la coprotagonista femminile, che stando ai rumors sarà Naomi Watts. Nuovo film ispirato alla figura di Conan il Barbaro. Dopo il fantanome per il protagonista, si è arrivati ad una conclusione. Il regista Marcus Nispel ha scelto il meno famoso, Jason Momoa, noto per alcune serie tv come Baywatch e Stargate. Sta per arrivare Hayden, nuovo horror made in Scandinavia. Hayden è stato presentato mese scorso al Kunmayor Noir Festival. La storia di Hayden racconta il ritorno a casa di Kay Kos, in seguito alla morte della crudele madre adottiva, a riemergere il suo passato dal quale era fuggito. Vi lascio con il trailer di oggi. Sei il mio migliore amico. Non vuoi aiutarmi? Cioè, non dobbiamo fare sesso. Mi basta il tuo sperma. Credevo che avrei già avuto marito e figli a quest'ora, ma non ho trovato il mio lui. Lo sfuggente lui. Tanti avuti. È ora di passare al piano di riserva. Ma sei fumata. Qui dice che lui ha i capelli rossi e le felidi. Credo che lei e il suo CRM 1014 farete splendidi bambini. Non deve mica camminare così. Come? Ah, ok! Non lo puoi sapere. L'uomo giusto potrebbe essere dietro l'angolo. Taxi! Mi scusi, non l'ho vista. Mi ha vista e come? Lo vedrai ancora. Credo di sì. Ma... e se sono incinta? Sei in anticipo. Gimita un minuto, facciamo da 3 a 5. No! Congratulazioni! Cavolo, ce l'hai fatta! Quando uno incinta ha tre volte la quantità di sangue che le circola nella vagina. Ecco perché riesco ad avere un orgasmo anche seduta in autobus. Ma sei già... Ho bisogno di dirti una cosa. Anch'io ho bisogno di dirti una cosa. Comincia tu. Ti amo. Non è la risposta che mi auguravo. Sono un po' incinta. Non credo che succeda così alla svelta. È stato prima che ti conoscesse. Oh, e tu non ne avevi idea. Io pensavo di uscirci per un anno o due, poi ci sposavamo e poi avevamo dei figli. Sei proprio sicuro di volerlo fare? Sì, sicurissimo. Facciamo un'ecografia. Per un attimo ho creduto che volessi mettere qualcosa orrendo. Si dà, sì. È normale, è bello. Mi manca il mio sedere di una volta. Non è più proprio così, ma ancora si difende. È un gran bel sedere. È più di quello che ti aspettavi. È più di quello che mi aspettavo io. Ma che cos'è? Piacere, sono un po' incinta. Il nostro parto non sarà così. Oddio. Per cominciare, fatti la ceretta. Per cominciare la ceretta. Per cominciare la ceretta. Quo fosse. In mezzo, per cominciare la ceretta. È già stata così, ma che rosa.